Salve a tutti Eccoci ancora e vi ringrazio con il nostro Washington Nationals Siamo qua Facciamo le ultime partite Adesso abbiamo un paio di partite sulla carta facili contro Baltimore 55-94 di score Dovrebbe essere sulla carta perlomeno un avversario abbastanza abbordabile Sulla carta mentre scusate esistiamo un pello di cose Allora Sulla carta dovrebbe scusate un attimo sulla carta dicevo dovrebbe essere un avversario abbordabile sulla carta perché in realtà non lo sappiamo aspetta un attimo scusami mi sto confuso mi sono mi sto confondendo scusate dicevo sulla carta dovrebbe essere un avversario fuori portata ecco quindi tanto giochiamo anche in casa cioè dovrebbe essere questa teoricamente dovrebbe essere la più facile delle partite e io in tutta sincerità penso di utilizzare adesso Strasburg e Scherzer proprio adesso magari adesso che magari se tutto va bene usciamo e si riesce a chiudere abbastanza in anticipo la partita possono fare in modo che Strasburg e Scherzer diciamo lavori in poco facciano i primi inning poi lasciamo spazio ai ragazzi i giovi insomma penso spero non lo so la carta dovrebbe essere una partita facile la carta dobbiamo vedere se effettivamente lo è intanto c'è un gioco Strasburg per cui suggeriscono subito una curva non va la curva e va bene poi oh bella una veloce in faccia per intimidire ecco vedi come sei intimidito 0-2 poi una curva lì vabbè ecco Strasburg un'altra curva siamo proprio sicuri ah se mi dice che fa un'altra curva ah ok diciamo più più in faccia più in faccia ecco va bene eh dovrebbe essere sereno a posto primo eliminato va bene diciamo queste partite teoricamente dovrebbero essere alla portata teoricamente molto teoricamente che poi non lo so quanto lo saranno effettivamente perché abbiamo abbiamo vinto contro avversari decisamente più validi e di noi del previsto e abbiamo anche perso con avversari sulla carta molto più scarsi quindi diciamo che eh sul fatto delle partite facili è tutto molto molto relativo ecco per esempio dammi ecco mezz'ora che volevo il cursore se ti sbrighi no niente allora già non iniziamo bene già non iniziamo bene non iniziamo bene per niente già già non iniziamo bene per niente sai che c'è vaffanculo adesso seguo il mio dai niente vabbè 1-1 allora tu cosa suggerisci un'altra cuba sempre ma sai se che curve però e poi non gliene entra una non ne va una buona che cacchio mi dice ancora le curve change up change up si però Strasburg tu dovresti essere la certezza tu dovresti essere quello che dici vabbè lancia lui sto tranquillo è un'altra curva eeeh che definizzerò chi curve strike out meno male secondo eliminato ci sta mettendo anche un po' troppo secondo me eliminare il cuore chi curve basta con le curve meno male 0-1 oh change ma curve change up curve change up gli altri tiri non ci stanno ci sono anche gli altri tiri poi lo vedi che ogni due effetti non sbaglio senti vado di mio in faccia per intimidirlo ecco vedi di nuovo uguale dai in faccia per intimidirlo perfetto oh a posto così a posto così chiamiamo primo inning il lancio adesso andiamo in battuta lo lanciatore Dean Kramer Dean non c'è è la cremeria scusate battuta testissima va bene ok dai è un po' bene ed è una valida una gran bella valida se ti fermi va bene oh benissimo iniziamo con una valida di di Turner simply the best dai adesso Ethan Ethan corta brutta vabbè primo eliminato va bene va bene va bene va bene sotto sotto vai sotto vai sotto sotto eeeh vabbè uh gli ha sbagliato il passaggio valida gli ha sbagliato il passaggio ok ci è andata di fortuna ma va bene e adesso Dominic vai Dominic vai Dominic ball e si rubano basi si era era o meno no è traicolo che ho girato la mazza sarebbe stato ball vabbè devo per pazienza tendo troppo a girare sto tendendo troppo a girare la mazza sta partita ok benissimo 1-1 dai 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 è la miseria però io non capisco mi prende il comando forse perché prima fa la levetta e poi e poi la mazza che faccio contemporaneo vabbè 1-2 porca miseria ball 2-2 ok va bene calmi stiamo un po' calmi ahhh vabbè vabbè Dominic è eliminato però andiamo a punto con con e poi è stupida la cosa era meglio che la passava direttamente in casa base per l'eliminazione ci impediva il punto piuttosto che sta con però vabbè buon per noi va bene va bene va bene allora Thames battuta in foul foul late addirittura va bene ok e vabbè e allora e allora dito comunque un punticino l'abbiamo fatto già primo inning un punticino l'abbiamo fatto ed è qualcosa mochi di slider qua siamo certi ecco allora poi dice una una veloce qua e va bene 1 1 poi c'è c'è il ricevitore nostro è fissato con le curve con le palle curve è fissato curve change up curve change up curve change up curve change up non è che che bene una veloce fino a ok come dice a me in faccia per intimidire dai perfetto vedi come senti mi dito 2-2 ancora poi surva non è che strasbuto mi stiamo facendo benissimo comunque stiamo ancora ti a me senti non sento più nessuno dai veloce ogni tanto vado di testa mia e risolvo ecco grande strasburg primo eliminato allora ti no io invece la do in faccia la do in faccia niente invece ha voluto tirare per forza una veloce lì però se già una volta l'ha presa la veloce io porca mi che vabbè faul 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 c'è andato allora una curva ecco ancora il faul e change up qui oh a posto secondo eliminato va bene va bene va bene senti la prima in faccia per intimidirlo così non seguo nessuno ecco perfetto e tua molto serenamente a posto terzo eliminato ok anche questo lo passiamo ora starlincastro starlincastro su montelancio dai eeeh niente purtroppo non va eeeh piatto perché le prendiamo riusciamo a battere spesso ma spesso le prendono loro non mi faccio ne facciamo tanto vai allora morfeos 1-0 dai 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 2-0 benissimo sempre in crisi sempre in crisi 2-0 eeeh niente faul 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 che sa che anche questi anche questa era tra e questa pure la ball ma porca mi saia una in zona in bollone sta lanciando in zona di strike scusate ok 3-2 ho 5 palle neanche una in zona di strike questa lo era 3-2 sempre ok fa eeeh niente secondo eliminato niente eeeh noi comunque abbiamo serissimi problemi nel far punti proprio in fase di battuta abbiamo serissimi problemi 1-0 cioè probabilmente la colpa è mia qua sono io che dipende la battuta dipende dipende penso anche se non soprattutto da me ecco comunque 2-0 eeeh vedi perché terzo eliminato sempre 1-0 stiamo stiamo stentando parecchio contro un avversario francamente alla portata e ripeto non è che c'è non è che assai dici ma guarda che mi sembrano bravi giocano bene chissà perché perdono e magari c'è un motivo lì sto lì sto vedendo scarso c'è vabbè stiamo giusto all'inizio del terzo inning ma proprio mi sembrano mi sembrano presso c'è ok se ti pre ti sbrighi per favore niente gli abbiamo regalato una valida perché quello prende la palla e si fa la passeggiata dritto la passeggiata inciampata si fa ahhh 0-1 ancora ancora curve 0-2 un'altra curva vabbè questo è un fuoricampo sicuro vabbè ti sbrighi come quello è salvo è salvo quello va bene una veloce alta così dai la miseria la la miseria curva curva però è troppo troppo con le curve stiamo andando ok una veloce la suggerisci qui e io invece no io invece la do in faccia per intimidirlo ecco 2-1 dai poi bravo vedo che anche il lanciatore segue il mio consiglio niente 3-1 però quando eh vabbè dici qua veloce qua è veloce qua perfetto 3-2 poi ma allora io c'ho allora c'ho un ricevitore che c'ha qualche problema nel capire determinate con i passettini i passettini ancora i passettini e siamo arrivati a eliminarlo per rotto la cup a Strasburg è la battuta e vabbè vabbè e battuta e niente qua non vabbè primo eliminato e niente ci ha provato comunque ricomincia il giro Turner simply the best anti Turner ball 1-0 dai poi poi 2-0 ok bene così poi poi ok a posto non c'è andare va bene va bene bene così bene così ok scusate l'interruzione c'è un dettaglio più che altro Heaton presa ed è una valida e ne è una gran bella paglia gli spugge pure la palla di mano e sbagliano e sbagliano tutte cose benissimo secondo punto è sempre Turner sempre Turner arrivare in casa base 2-0 bene così e adesso e adesso sotto sotto ma secondo eliminato va bene niente secondo eliminato sotto va bene va bene va bene e ora c'è Dominic 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 e poi c'è la sfiga ovviamente la battuta finisce precisa sul guantone del primo a base va bene comunque 2-0 un altro punticino può andare anche bene ora Strasburg comunque Strasburg non ci siamo oh bene vedo che anche il ricevitore il nostro ricevitore si unisce all'idea del lanciarlo in faccia per intimidirlo e la cosa in qualche modo funziona primo eliminato primo eliminato tenti la prima vado di testa mia in faccia per intimidirlo ecco perché 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 ti sei tuffato perché ti sei tuffato dai terza base sbrido di passettini i passettini i passettini odio odio i passettini odio i passettini senza i passettini lo eliminava senza i passettini 0-1 comunque la stiamo giocando davvero ma c'è tante cose stiamo sbagliando tantissimo noi stiamo sbagliando tantissimo noi gli stiamo regalando un sacco di di cose e 2 curva curva qui ecco viamo lì secondo me la batte e ci fa malissimo no 1-2 ok vado di testa mia dai to in faccia ci riprovo in faccia per inclinirlo così dai niente ok lui strasburg però porca mia se tu dovresti essere la sicurezza strasburg dovresti essere la sicurezza strasburg dai che prendi che tua ok secondo terminata secondo terminata ok adesso qua prendila che tua sereno serenamente tua serenamente tua ce la siamo vista brutta ce la siamo vista parecchio brutta però bene 2-0 adesso adesso quarto inning in battuta dai Thames 1-0 ok e neanche il loro lanciatore mi sembra un fenomeno è che sto battendo male io sto giocando molto male io proprio in fase di battuta ma il loro lanciatore non mi sembra un fenomeno 2-0 battuta Thames era a candela letteralmente a candela sta battuta niente 2-0 cioè prima eliminato che dico 2-0 eh prima eliminato prima eliminato e adesso Starlin Castro e adesso Starlin Castro eh numero 1 battuto dice ok oh niente niente 0-2 niente non la capisco non li capisco non la capisco 0-2 come sto battendo male come sto battendo male 1-2 comunque lui una palla in zona di strike non la sta tirando sono io che ok ok sempre 1-2 poi ok ok ma no ma no mamma mia la sto giocando malissimo eh la stregata l'ha fatta adesso al quarto inning Morpheus tocca a te Morpheus 1-0 dai 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 ehi ma perché sto rimbecillito così 1-1 ah devo staccarlo lo sta a fermo oh 2-1 dai dai che ce la regala lui la base ce la regala lui la base dai 2-1 pessima che niente niente vabbè finire il quarto inning adesso andiamo al quinto e un po' se di lancio non mi sta piacendo questa partita non mi sta piacendo non mi sta piacendo stiamo giocando veramente male veramente male e finisci coi passettini e cazzo oh odio odio sti passettini odio 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 provo sereno odio per questi passettini 0-1 0-1 eeeh ok ancora curva qua così è la miseria allora e ancora che i passettini eeeh per tante niente per un pelo è arrivato a eliminarlo per fare i passettini i passettini odio odio profondo odio vero e sincero 0-1 ah che mi dici di fa due nodi ok dai va bene 0-2 curva vabbè dopo due veloci una curva ci può stare eh cioè atterasse atterasse dritta però vabbè che curva ma invece curva in verticale non non orizzone meno male dai terzo eliminato anche quinto inning lo passiamo senza problemi diciamo adesso Gomez 1-0 dai questo non la tira quasi mai in zona di strike dai eh sì allora vabbè primo eliminato eeeh eeeh vabbè strasburg tocca di nuovo a te 1-0 è una partita che stiamo giocando male stiamo giocando davvero male eeeh vabbè qua è qua è strasburg qua è strasburg vabbè però stiamo giocando cioè stiamo vincendo 2-0 perché baltimore perché è squadra che oggettivamente sta dimostrando i risultati di non essere una squadra di fenomeni però con una squadra un po' più seria una partita giocata così la perdiamo male comunque 1-0 e questa ancora non è detto che la vinciamo eh io ancora non mi sento tranquillo abbiamo solo due punti di vantaggio 2-0 Turner eeeh scappa gli è scappata salvo eeeh c'è vedete questi c'hanno la fase di ricezione nostra questa la palla gli sbatte contro non la prende c'è ha tipo la fase di ricezione no c'è insomma ecco comunque heaton salvo non ci provare non ci provare ok dai heaton non so che cos'era sta cosa 1-0 allora heaton heaton 2-0 non capisco cosa stia cercando di fare ma vabbè 2-0 battuta heaton e iniziamo la presenza da muro però no 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 gli è rimbalzata la davanti è una valida la valida di heaton la valida di heaton bravo heaton bravo heaton e adesso sotto 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 al 0-1 niente niente 0-1 sotto 0-2 mi sembra centrale invece scende e quando c'è da far la curva non la capisco non la capisco non la capisco non la capisco e vabbè niente e terza eliminazione stavolta manco il punto facciamo vabbè va bene allora inizia il sesto inning e change up allora strasburg vabbè 0-1 va bene in realtà sempre comunque abbiamo un ricevitore che è un pelino fissato con le palle curve comunque 0-2 ok ok briga non fanno i passettini vabbè primo meno male primo eliminato per 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 vabbè ok 0-1 dai eeeh curva 0-1 1 allora si strasburg però anche te non è che stai lanciando un po' malino eh io non te lo vorrei dire c'è io sono tu dovresti proprio tu dovresti almeno male segreterzo di mira tu proprio tu dovresti farmi una prestazione gli lanci c'è contro questi qui 1-2-3 eliminato 1-2-3 eliminato eh cioè con questi qua dovresti farli tutti strike out facile eh proprio strike out tre tiri invece gli stiamo gli stiamo concedendo tanto eh eeeh vabbè eeeh vabbè la curva lì e vabbè spicolata di curva e ti mi sono rotta le palle vado di testa mia avanti avanti ecco niente strasburg ok alta di là strasburg per carità del cielo strasburg eeeh maul ok ok strasburg ah ah hai c'hai scassato tre ce ne è scassato tre qua ooooh finalmente finalmente chiudiamo sto inning come in fase di lancio e ora battuta con dominic avanti eeeh niente very late vabbè 0-1 1-1 ok stanno facendo scaldare altri bene dominic vabbè niente con l'eliminazione facile primo eliminato e niente non ne riusciamo a fare tantissimi punti stiamo andando malino in fase offensiva eh e thanks battuta bella profonda olè oh dai fuori di campo 3-0 dai bravo eric bravo eric bravo eric mi sei piaciuto bene così oh bene così bene così loro cambiano lanciatore per disperazione orge lopez ok orge lopez diamo un po' come questo starling castro lo testerà per primo ho capito è un altro di quelli che lancia moscio va bene 0-1 un altro di quelli che lancia moscio 97 migliorarie tanto moscio non è però comunque 1-1 dai calma mi sembra sempre mi 2 però anche questo 3 palle non ne ha lanciato una in zona di strike eh 4 e non ne ha lanciato una in zona di strike 2-2 ok la levetta non mi prende non mi prende allora Kendrick avanti dai ma la levetta perché non mi prende la levetta la levetta oh ok bene è una valida non Morpheus valida di Morpheus va bene va bene dai va bene va bene Morpheus adesso Ian Gomez adesso Ian Gomez 1-0 poi finiremo come mai è battuta e niente va bene terzo eliminato finisce qui la storia per fortuna fuori campo di defense ci porta sul 3-0 tranquillo tranquillo non sto ecco mettiamola così io direi che prossimo inning io direi che prossimo slider slider va bene tirato tutt'altra zona ma vabbè 0-2 adesso tu qua così va bene eh ok però io la eliminata in strike per questo motivo oh primo eliminato comunque prossimo inning ti mette si mette qualcuno eh dai brigati oh secondo eliminato oh dai va bene va bene va bene va bene signori change up change up la niente 0-1-0 scusate la veloce qui niente non c'è un 1 eeeh curva meno male 1-2 una veloce qua ce la fai 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 oh comunque anche qua mi ha dato cursore l'altro che era più lontano eh mi ha dato cursore quello più lontano vabbè quello a sinistra che era più lontano mi ha dato i cursori va bene e adesso Strasburg ha la battuta però io ho un paio di giocatori di mettere al bullpen allora warm up romero e warm up do little va bene così vediamo un po' allora Strasburg 1-0 poi vabbè non mi aspetto nulla da Strasburg sinceramente però vabbè è qua ci provo ci provo eeeh vabbè poi 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 io non sono un fenomeno io ho problemi io è un problema è mio è solo mio il problema con la con la con la con la prospettiva due volte che non le capisco allora 3-1 se regalano la base a Strasburg io li do fino a domani mattina ma non ci credo tanto e invece si base regalata a Strasburg che bello ok tecnica del porco spino signori stiamo fermi vediamo che succede allora dai adesso Turner Turner che doppia eliminazione proprio facile no solo uno solo Strasburg vabbè si è salvato prima gli ha regato la bada l'ha eliminata adesso più o meno ci siamo eton eton 1-0 poi 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 si 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 credici tantissimo 1-0 ribadisco credici tantissimo ma credici tanto uno come Turner che è tipo un centometrista prestato al baseball però ok ok no no mi viene una bolla che no vabbè va bene va bene calma siamo calmi stiamo molto calmi anche questa era bolla niente ahhh vabbè ok bene ed è una valida ed è una valida arrivi in terza base arrivi in terza base fermati lì dove sei fermati lì dove sei terza base va bene va bene va bene ora sotto sotto vai vai sotto vai sotto 1-0 dai devo avere pazienza devo avere pazienza non devo avere fretta non devo avere fretta non devo avere fretta perfetto 2-0 ok dai 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 ahhh accanitese 1-1 2-1 c'è comunque difficilmente la tira dritta ok est 2-2 però ogni volta di nuovo è sempre vabbè 2-2 bene ed è una valida ed è una validissima e facciamo 2 punti 2 punticini signori 5-0 oh va bene dai sul 5-0 mi sento un po' più tranquillo considerato che tra l'altro noi battiamo dopo quindi finito questo proprio letteralmente finisce il settimo inning e con le loro fasi con la loro fase di battuta quando la tirante comincia l'ottavo quindi due inning soltanto alla fine mancano poi ok va bene 0-1 0-1 0-1 va bene va bene calma no 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 perché ho provato l'istinto 0-2 no no calma calma vabbè niente secondo eliminato proprio tutto dominic vabbè vabbò vabbò secondo eliminato eh Thames palla vabbè ok Paul però uno ha cominciato a tira palle dritte ti sa vabbè vabbè 0-2 late addirittura va bene bene e niente la porca miseria va bene finisce settimo inning andiamo all'ottavo fermo allora io sto putto in game Romero dai è un ragazzino i ragazzi bullpen e bullpen però mi porto mi porto mi porto ma boom boom wow cazzo non si sa mai io intanto al fine deve lanciare due inning Romero ce la facciamo a non subire 5 punti in due inning no io vorrei vorrei credere che ce la facciamo a non subire 5 punti in due inning da questi sono questi che non non sanno neanche tenere la mazza in mano cioè eh dai ecco se ti sbrighi no no falli fallo qualche altro passettino falli passettino mi piace e quelli dicono no ma tanto sono in automatico ti fanno regolare eh io vedo vedo che stanno regolare se ti sbrighi ti passettino quello sta fuori dalla base così ti fa la passeggiata ragazzi che succede cosa vi piglia signori eh cosa vi piglia Romero allora fai Romero Romero ti prego Romero di 2012 eh no 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 senti quarta batta io sono scemo devo lanciarla in terza base anzi non devo lanciarla proprio vabbè vabbè 1 2 doppia e quello non gli vale ok e anche questo senza punti Sean Armstrong nuovo lanciatore per loro vediamo un po' com'è Stalin Castro primo a testarlo vediamo un po' e intanto una battuta un po' brutterri ma quanto basta per una valida quanto basta per una valida bravo Stalin bravo Stalin Castro e adesso Kendrick Morpheus il nostro Morpheus oh questa mi sembrava questa mi sembrava alta va bene 0-1 va bene e questa invece mi sembrava ma io non ho proprio misericordi tu lo prospetti questo gioco io va bene 0-2 oh vai corri corri cosa perché non perché non sei andato non lo capisco non lo capisco non lo capisco 0-1 perché non è corso a rubarla a base va bene Gomez battuta ma viene corta a candela eliminazione facile con mio non l'ho capito ma va bene no 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 Romero Romero dai ultimo battitore Romero dai si fa pure questa esperienza dai dai set dai set eh battuta fa va bene si dai dai vediamo che può fare 0-1 va bene va bene va bene ah peccato era carina peccato vabbè corta viene corta di terza eliminazione va bene va bene dai adesso fase di lancio ultimo inning si spera che sia l'ultimo della partita che se riusciamo a a a finire sto inning senza tubire 5 punti eh non ho capito vabbè non ho visto dove ha suggerito vabbè prendila che tua ok primo eliminato eh va bene dai va bene così primo eliminato va bene va bene poi una veloce lì dai dai set niente di nuovo riprova riprova ci ce la puoi fare vai set va bene ok dai 1-1 change up così dai benissimo 1-2 poi qua così vai set e a posto secondo eliminato olè va bene signori un'eliminazione e ce la portiamo a casa ok vai set 1-0 va bene ok di qua vai Romero 1-1 va bene slider lì vai Romero vabbè Romero uno strike saluta quando di resta lì uno strike andiamo a casa Romero uno strike andiamo a casa Romero uno strike che va porca miseria uno strike a casa uno strike andiamo a casa Romero uno strike andiamo a casa Romero uno strike andiamo a casa e ale 5-0 l'abbiamo giocata male abbiamo giocata veramente male dobbiamo essere sinceri con noi stessi l'abbiamo giocata veramente male però Baltimore e Baltim c'è questa squadra e questa squadra non è la squadra insomma sembra non essere un chissà quale grande squadra cosa ci ha consentito la cosa ci ha consentito di c'è consentito comunque di portare a casa la vittoria nonostante una brutta partita giocata male e i sinnati Reds hanno perso e vabbè l'ultimo avversario serio ce l'hanno qua Boston queste due di Boston per loro è l'ultimo avversario serio perché poi hanno St. Louis 64 87 Miami 63 88 e beh poi passeggiano su Pittsburgh 46 105 poi letteralmente passeggiano su Pittsburgh comunque loro questa l'hanno persa la speranza che magari noi vinciamo anche la prossima loro perdano anche la dopo loro magari perdano anche la prossima e magari la cosa teoricamente può tornare in gioco non lo so allora noi in questo momento se sono le vittorie abbiamo una sconfitta in più abbiamo una sconfitta in più dobbiamo vincere e poi pregare chi fa Boston vincere chi fa le Boston detto questo saluto di quanti voi alla prossima l'america league east division they're over 20 20